Questo è Gesù Cristo nella storia dell'uomo, l'inizio continuo di questo messaggio, siete amati, cos'è la vita? È essere amati, l'essere che abbiamo addosso, essere amati, il destino, essere amati, questo è Gesù Cristo. Siccome Dio è diventato un uomo, vuol dire che il metodo di Dio con la sua creatura, con voi, con me, con me e con voi, è un metodo, come ho detto prima, di familiarità assoluta. Come vi rivolgete a vostra madre, a vostro padre, per quello di cui avete bisogno. Ci si rivolge a Dio ogni giorno per qualsiasi cosa di cui si aveva bisogno e sempre succede qualche cosa, sempre succede qualcosa che non poteva succedere, qualcosa che per forza ti richiama a un altro, a qualcosa d'altro.